coprono i reati e non dei delinquenti che lo commettono. Nel caso di specie vorrei far rilevare come nulla è cambiato in questi 31 anni semplicemente perché il berlusconismo ha invaso il nostro paese, l'idea cioè dell'impunità, l'idea che bisogna dare sempre colpa a chi mette e annudo i comportamenti illeciti e illegittimi di chi sta al potere. Diciamola tutta, oggi la legalità è più a rischio di 20 anni fa perché 20 anni fa potevamo combatterla in quanto i cittadini erano informati e stavano vicini ai magistrati. Oggi attraverso una massiccia opera di disinformazione si fa credere ai cittadini che i fatti individuali e magistrati non siano fatti da condannare ma siano semplicemente giochi politici tra le parti.